la meccanica quantistica nasce all'inizio del novecento quando i fisici si trovarono di fronte a una grossa sfida ovvero capire il mondo microscopico un mondo che non è accessibile attraverso lo sguardo o attraverso una lente di ingradimento un mondo su cui non posso fare esperimenti diretti con le mani o con qualche semplice utensile c'è bisogno di strumenti sofisticati e c'è bisogno della matematica per interpretare i dati sperimentali e c'è una cosa che emergeva dalle ricerche di quegli anni a volte la materia aveva un comportamento continuo altre volte la materia aveva un comportamento discreto questo poneva subito un problema pensate di avere una lampadina che può avere un'intensità bassa e un'intensità alta in generale uno può pensare che possiamo anche regolare l'intensità in qualunque valore intermedio oppure potrebbe essere fatta in maniera tale che posso solo fare dei salti discreti di intensità dal valore minimo al valore massimo però non ci aspetteremo che la stessa lampadina a volte si regole con continuità e a volte si regole in maniera discreta o una o l'altra invece questo era quello che succedeva alla luce la luce a livello microscopico a volte aveva proprietà continue a volte aveva proprietà discrete la stessa cosa accade anche per la materia una particella libera si muove con continuità invece una particella legata tipo un elettrone che gira attorno al nucleo in un atomo si muove in modo discreto solo certe orbite sono permesse altre invece non sembrano essere permesse ed ecco che si poneva un problema per i fisici dell'epoca perché talvolta la materia si comporta in modo continuo e perché altre volte in maniera discreta e soprattutto come descrivere questi due modi così diversi in apparenza in un'unica teoria grazie a tutti Grazie a tutti.